Incidente nella tarda mattinata di venerdì 5 luglio, poco dopo mezzogiorno, sulla strada provinciale 565 a Predemontana. Una moto KTM Super 1290 ha tamponato una Ford Fiesta. Il motociclista è caduto a terra, illeso invece il conducento della Fiesta. Sul posto sono intervenuti la Croce Bianca del Canavese, i carabinieri di Castramonte e il personale Anas. Dopo le prime cure il Centauro è stato trasportato all'ospedale di Ivrea con alcune probabili fratture. Non è in pericolo di vita. La dinamica del sinistro è il valio dei carabinieri. Grazie. 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 Grazie.